Allora ragazzi come si fa a installare? Allora, è un procedimento un po' particolare soprattutto per quanto riguarda le auto. Allora, andiamo su questo sito che si chiama projectcartsmoddingteam.weebly.com Vi lascio il sito qua sotto, non vi preoccupate, nella descrizione. Prima cosa da fare è scaricate questo boot file for automobilista, quindi cliccate sopra, scaricate. Dopodiché, che avete scaricato, questo è per dopo la 1.4.6.1 del gioco, dopodiché vi scaricate le mod che vi interessano. Io preventivamente ho scaricato la 992, la Porsche 992, questa qui del 2022, la GT3 AMS2. Voi scaricate quello che volete, potete provare a scaricare anche quelli che non sono compatibili e provare, però provare non costa nulla. Quindi avete la vostra mod che avete scelto, o le vostre mod che avete scelto, potete scaricarle tutte, e il boot file for automobilista. Dopodiché dovete scaricarvi questa utility che trovate un po' dappertutto, io l'ho trovato anche su Rise Department, addirittura per R-Factor 2. Si chiama G-J-S-G-M-E-Mod Enabler. Per chi utilizza le mod, questa è un'applicazione che conoscono tutti. Quindi abbiamo le nostre mod, il nostro J-S-G-M-E, e abbiamo anche il nostro boot file. Ora, giusto, apro e chiudo parentesi, sul sito ci sono presenti anche, se volete, tre circuiti con vari layout, basta seguire le istruzioni e sono stati convertiti. Era giusto segnalarvelo. Allora, a questo punto che cosa bisogna fare? Bisogna andare sui file che abbiamo scaricato. Ok? Quindi estraiamo boot file, G-S-G-M-E-E, d'accordo, che in pratica bisogna solo prendere e copiare nella cartella principale di Automobilista 2, e come si fa è molto semplice, basta andare su Steam, nella vostra libreria, tasto destro, su Automobilista 2, proprietà, file locali, sfoglia file locali. Così ci ritroviamo nella cartella principale, io ce l'avevo già aperta secondo me, Automobilista 2, e come vedete io ho i G-S-G-M-E che è già installato, e ovviamente c'è una cartella mod, infatti la cartella standard per l'abilitazione delle mod è questa qui, mods.mods in maiuscolo, quindi se non ce l'avete, createvela ragazzi, così le attivazioni le farà lì. Allora, come si fa? Prima di tutto bisogna che le auto siano attivate tramite G-S-G-S-M-E, eccole qua. Allora, come si fa? Bisogna mettere le auto dentro questo mod. Quindi ragazzi cosa faccio? Vado sulla mia cartella download, vado dentro mod, ovviamente, e mi scarico dentro la cartella. Vi faccio vedere questa, e mi lascio questo file di testo aperto, cioè non lo copio. Quindi prendo questo qua, faccio taglia ad esempio, e l'encollo qua. Lui fa tutto il suo ambaradam ciccicoco, e infatti è qua. A questo punto vado sul mio mod enable, e come vedete posso già dire vai, attivalo. Ok? Quindi io prendo, e me l'attivo. Mi dice, sei sicuro? Yes! Quindi questo è attivato. A questo punto uno dice, ma è finito? No! A questo punto bisogna aprire il file di testo, questo qui. Quindi ci fate doppio clic, e vi ritrovate questa roba qua. Compatibilità, bla 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 bla. Quindi adesso vi è una parte delicata. Abbiamo installato la mod, quindi l'abbiamo attivata. Adesso servono due passaggi. Fate ben attenzione. Quindi abbiamo aperto il file di testo. A questo punto torniamo sulla sottocartella mods, e andiamo sulla sottocartella boot file, vehicle, physics. Quindi bisogna cercare physics. Eccolo qua. Quindi driveline, che potete aprire tranquillamente con l'editore di testo. Andate in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, e vi ritrovate, prima dell'end, vi trovate questi cancelletti. D'accordo? Quindi occhio a questa roba qua. Torniamo sul file del Porsche. Vedete? E vedete che dite, andate in physics, e prendete tutto questo qua, record group, bla 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 bla, record, lo copiate, andate su driveline, vedete dove c'è 3000, gli mettiamo un bel invio, doppio invio, copiamo, e salviamo. Questa è la prima. Quindi, questo qui era per quanto riguarda la fisica. Adesso, sempre sotto mods, boot file, veicolo, come vi dice qua, andate a cercare vehicle LST. Eccola qua. E qui, quindi questo lo chiudiamo, e qui, vehicle LST, bisogna copiare questi due, dove vedete, vehicle Porsche GT, eccetera. È tutto caos, ragazzi, però alla fine è facilissimo. Basta andare anche qui all'ultimo, e inserire queste due righe, e salvare. Fatto ciò, chiudo. Quindi, a questo punto, cosa devo fare? E vado a vedere se la macchina funziona. Me la trovo sta Porsche, e poi bisogna anche andare a trovarla, dove? Quindi la Porsche 992 GT3. Ora, speriamo che ho fatto tutto bene, così vuol dire che funziona, la proviamo. Ciao, poi sono fatti i vostri. Quindi andiamo a vedere se funziona. Quindi ragazzi, andiamo a cercarla, eccola qua la 992, eccola qua. Ammazza, è bella però, livelli select, guarda quante livelli, mamma mia. Dai, proviamone una, e vediamo. Questa mod, è un po' complicato, ve l'ho detto, perché effettivamente ci sono parecchi passaggi, però quando si è capito come funziona, poi è abbastanza semplice, quindi andiamo a provarla, vediamo. Questa bene, senti che sound. Eh, il sound ragazzi, è bello, ecco. Mamma mia. Le scalate un po' meno, quello è... non è che mi è piaciuto tanto, però... Va bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, questo video tutorial per le installazioni delle mod su Automobilista 2 vi è piaciuto, non esitate a lasciare un pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!